In regia c'è Vincenzo Russo che ama questo tipo di musica e quindi veloci via grintosi per Restart 26 settembre 2020 su Streaming Sport. Buona serata da parte di Mirko Villanova invece in conduzione, tra poco scopriremo anche l'altro conduttore cioè Flavio Cipriani nelle interviste che siamo andati ad effettuare in quel di Ponzano. Ponzano quindi va a partecipare al campionato di promozione, un campionato di promozione interessante, un paio di amichevoli già effettuate e quindi un Ponzano che incomincia ad essere rodato. C'è De Pieri alla guida del gruppo ma c'è anche Roberto Gnese, nuovo direttore sportivo arrivato quest'anno proprio al Ponzano e cominciamo da lui. Sì, si comincia a fare calcio, ho una società che l'anno scorso era un po' in difficoltà, come è venuto Moreno Sartorato, un team manager molto ambizioso, però noi facciamo cose con calma, rappresentatore esperto, abbiamo tanti giovani, purtroppo anche il discorso del Covid, un po' il discorso di sponsor, insomma una squadra giovane, tutta da scoprire. Hai detto bene, Sartorato poi lo conosce, insomma dovrai tenerlo calmo e tranquillo perché lui è una bomba. Sì, sì, è una bomba, è un po' come si dice, è un po' sopra le righe, però è ambizioso e questa gente sul calcio fa sempre bene, insomma. Poi ripeto, è importante mantenere anche gli impegni che ci hanno presi con i ragazzi perché insomma è un anno difficile questo. Che campionato sarà? Sarà un campionato secondo me è un po' particolare, a parte il Treviso che ha allestito una squadra fuori categoria, ma insomma con le altre due o tre squadre insomma che hanno ambizione, ma noi facciamo un campionato insomma per stare in categoria. Il mister secondo me è all'altezza, è bravo e dobbiamo far crescere i giovani che abbiamo perché secondo me sono una risorsa importante per il Ponzano. È un mister che come hai detto è bravo, ma ha bisogno di lavorare, bisogna di lavorare in tranquillità, di creare e di lavorare a lungo raggio. Sì, questo è il nostro programma, dopo non so se ci riusciamo, però il nostro obiettivo sarebbe insomma in tre anni sistemare un po' l'ambiente diciamo così e puntare insomma un passino alla volta insomma con una squadra sempre un po' più impegnativa, più importante. Avrete un po' di derby in questo vostro giro? Beh, ci fa solo bene insomma anche sperando di giocare col pubblico, insomma fa sempre bene insomma vedere gente in tribuna, anche i ragazzi credo che sia una soddisfazione, insomma siamo in promozione, è una categoria importante, più giovani che mettiamo dentro e più contenti siamo, però i derby fa sempre bene insomma. Questo è Roberto Agnes, nuovo direttore sportivo quindi in casa Ponzano, come avete sentito si è accompagnato verso Ponzano da Sartorato, che è effettivamente uno, chiamiamolo sponsor, ma un manager che sa di calcio e vorrebbe fare il bene sempre delle società, poi molte volte ci si scontra con degli ambienti in cui non è possibile fare quello che l'industriale Sartorato vorrebbe fare, purtroppo il calcio non è alla stregua di un'azienda, anche se molti dicono vogliamo gestirli come un'azienda, è un'azienda sì ma in modo particolare. E allora streaming sport e restart 26 settembre perché è la data, 26-27 settembre è la data in cui inizierà appunto la serie D e l'eccellenza, poi vi ricordo promozione prima e seconda categoria inizieranno il 13 del mese di settembre. Andiamo a sentire il nuovo tecnico allora perché oltre a Roberto Agnes, nuovo direttore sportivo, è arrivato anche il nuovo tecnico Maurizio De Pieri alla Corte del Ponzano. Eccolo. Sì, finalmente diciamo dopo tanto tempo insomma per tutte le vicissitudini che sappiamo ritorniamo in campo e questo credo sia innanzitutto la più bella cosa, la più bella soddisfazione. Adesso si ricomincia, vedremo come questa pausa ha creato sicuramente qualche problema, però ripeto con calma tutti quanti credo che ci allineeremo e torneremo, io spero il più presto possibile, a fare le cose con semplicità, poterci allenare in tranquillità, giocare e iniziare questo campionato che a oggi ci hanno anticipato di 15 giorni, quindi questo sicuramente non è una cosa che ci agevola, però ci adeguiamo perché la cosa più importante è quella di ricominciare, credo. E allora ti lascio a Flavio, Flavio subito una domanda. Ecco, sei tornato a respirare l'aria veneta, l'aria della promozione dopo il terzo posto di Fontanelle, conquistato con grande merito, ma soprattutto dopo un campionato giocato nella morsa tra Porto Mansueo, Pitergina e Treviso. Sì, insomma quello che è stato fatto ormai Fontanelle è stata un'annata eccezionale, però fa parte del passato e quindi dobbiamo guardare avanti. Quest'anno vengo qui a Ponzano con molto entusiasmo, c'è una società che ricomincia tra virgolette un po' da zero, dove sono cambiate tante cose, sono cambiati l'allenatore, il giocatore, dei dirigenti, il direttore sportivo, quindi diciamo che per questa società questo è l'anno un po' zero, dove si ricomincia e quindi cerchiamo di mettere le basi per poter lavorare diciamo due o tre anni, poter costruire qualcosa, io dico di importante, poi il valore importante lo scopriremo stato facendo che cos'è. Ecco, quel piazzamento dettato anche da una serie di infortuni ti hanno privato di un traguardo migliore, visto che hai avuto la coincidenza di presentare una squadra modellata a metà. Ma no, non mi ha privato, io credo che alla fine abbiano vinto le due realtà che poi è giusto che siano andate in eccellenza, quindi mi riferisco al Porto Mansuet e al Treviso poi con la vittoria della Coppa. Noi siamo stati, credo, una bella, credo straordinaria favola di quel campionato per, penso, sette mesi, credo che abbiamo fatto passare delle sonni, delle strane nottate a qualcuno, questo è vero, però poi alla fine credo che abbiano vinto quelli che era giusto che vincevano. Ecco, tra i mistri di marca sei, tra coloro che hanno varcato il confine friulano, hai toccato il picco con la vittoria in eccellenza e il passaggio in serie D, ma soprattutto sei rimasto sul piedestallo a Fontanelle, Porto Mansuet o Pitergina, qualcosa invece ha scricchiolato. Sì, fa parte, sono vent'anni che alleno, è un percorso di un allenatore di vent'anni, chiaramente ci sono situazioni positive e situazioni negative, sono cose belle e cose spiacevoli. A Porto Mansuet, ripeto, è stata una cosa un po' particolare, ma ripeto, fa parte del passato. Io credo che quell'anno avevo iniziato molto bene e sono stato generato alla quarta giornata, ma, ripeto, inutile stare a rimangare. A Oderzo preferisco onestamente non commentare la situazione di Oderzo, perché dovrei dire delle cose che credo che sia giusto, che mi tengo per me, e quindi voltiamo pagina e andiamo avanti. Ecco, l'ultima fatica a Lumignacco lo scorso anno, poi lockdown, hai preso per mano una squadra che arrivava da nove sconfitte consecutive. Hai dato un gran taglio allo spogliatoio e questo Lumignacco è ripartito un po' alla meglio. Il Lumignacco è stata una sfida, sono andato alla decima giornata di campionato, credo un record negativo perché avevano zero punti dopo nove partite, credo che sia un record in qualsiasi categoria. Sono arrivato là, ho trovato sicuramente una situazione non bella, ho cercato di fare il mio e ho fatto delle scelte, sì, ho modificato la squadra, però alla fine abbiamo cominciato a fare dei punti e quando hanno bloccato il campionato, il Lumignacco oggi partecipa ancora al campionato di eccellenza e quindi credo di aver fatto il mio dovere e comunque, ripeto, ho lasciato anche un buon ambiente perché poi alla fine ho sempre sentito parlare male di società, io onestamente non posso parlare male. Sono convinto che se avessimo terminato il campionato ci saremmo salvati sul campo, però alla fine, ripeto, il campionato oggi Lumignacco lo fa in eccellenza, quindi qualche merito credo di averlo. Davanti a un terzo posto a Fontanelle, l'anno seguente gli addetti ai lavori non hanno dato credito al tuo lavoro ma soprattutto alla tua immagine da mister, diciamo anche vincente. Cipriani oggi mi vuole stuzzicare, perché mi conosce, ma non cado in questo tranello, quindi ripeto, fa parte del mio percorso di allenatore e probabilmente io mi sono creato una mia immagine con i miei pro e i miei contro, sicuramente non sono un allenatore che partecipa a cene, serate, cose varie, quindi sto un po' sul mio, posso essere simpatico o antipatico, però vado avanti per la mia strada, ripeto, sono vent'anni che alleno, nessuno mi ha mai regalato niente, vado fiero, ho vinto dei campionati, come dicevi prima, sono riuscito ad arrivare ad allenare in Serie D e nessuno mi ha regalato niente, me lo sono conquistato sul campo e devo dirti che sono anche, questo è un orgoglio per me, sono uno dei pochi allenatori che negli ultimi anni è riuscito a salire dall'eccellenza, andare in Serie D e con la stessa società rimanerci anche, perché non ce ne sono tanti, io sono uno di quelli e per me questo è un orgoglio. Ecco, c'è un aspetto dissonante per quanto riguarda Veneto e Friuli, il cronista è ospite prima e anche dopo la partita, questo lo hai appurato anche te in passato? Sì, sono due realtà diverse, per anni mi dicono che il calcio friulano è di un'altra categoria, io sono dieci anni e non condivido questo, è diverso, questo è vero, è diverso, ma non è vero che in Friuli c'è un calcio che sia meno competitivo e se voi andate a vedere tutte le partite di Coppa Italia, quando gioca il Friuli contro il Veneto, negli ultimi dieci anni penso che otto o nove volte alla fine abbia sempre vinto il Friuli, quindi evidentemente hanno un approccio all'allenamento diverso, ma non è che ci siano giocatori che non sappiano, anzi io credo che in Friuli forse ci siano dei giocatori che abbiano quasi anche più qualità, vivono il calcio in maniera diversa, questo è vero, bisogna apprenderli come sono, bisogna capire quali sono i loro ritmi, quali sono i loro modi di far calcio e chiaramente adeguarsi alle loro, tra virgolette, esigenze. Questo coinvolge anche il cronista nel post-gara, ospitalità massima? Assolutamente sì, lì vivono il calcio fin dalla partita, a livello mediatico, interviste, televisioni, a volte ti sembra veramente di fare categorie che no. Su queste cose qua io credo che loro siano per esempio più avanti del Veneto. Ecco, due big hanno salutato, in passato appunto con il Porto Mansuet o Pitergina, Portuguaro, ora rimane solo il Treviso? Il Treviso è una cosa un po' particolare, il Treviso, io parlo da tifoso, ho giocato per 11 anni nel Treviso, sono cresciuto nel Treviso, abito a Treviso da tifoso, spero che prima di tutto si sistemi come società e riescono a andare nelle categorie che gli competono. È chiaro che è una realtà, il Treviso non deve fare queste categorie, parliamoci chiaro, però è giusto che sono qui ed è giusto che le affrontino nel modo corretto, è giusto che nessuno gli regali niente ed è giusto che se devono tornare tornino come tutti guadagnandoselo sul campo. Ecco, tocchiamo il tasto tecnico tuo in passato, hai avuto sempre degli ottimi portieri da ultimo livello, ma in precedenza hai scoperto anche Buiatti e soprattutto Vicario che ora è il Cagliari. A Ponzano hai scelto Mion? Sì, diciamo che io ho avuto la fortuna, ho fatto dei risultati importanti, ma senza giocatori i risultati non se ne fanno, è inutile che stiamo lì a raccontarcela. Ho avuto la fortuna di allenare giocatori importanti e nei portieri sicuramente Vicario è stato, ma Vicario non l'ho scoperto io, Vicario quando è arrivato si vedeva già che era un predistinato, certi ragazzi si vedono subito ed è arrivato dove è giusto che arrivi, io sono convinto che arriverà anche a giocare in Serie A perché ci arriverà, ci vuole anche un po' di fortuna, però ha le qualità, la testa. Mion è un portiere affidabile per questa categoria, è un ragazzo che ha una certa età, ha una sua esperienza, secondo me ha ancora molto da dare, quindi noi avevamo bisogno sicuramente, siamo una squadra molto giovane, abbiamo bisogno di un portiere di esperienza e lui è il profilo secondo noi perfetto per questa società, perché ripeto, noi siamo qui perché dobbiamo far crescere anche un ambiente e lui sicuramente, come ho detto, ha il profilo per far questo. Ecco, nel comporre il quadrilato di difesa hai dovuto litigare con Roberto Agnès, che in passato il difensore l'ha fatto e molto duro, hai condiviso le idee? Sì, sì, ma con Roberto, a parte che ci conosciamo da una vita, guarda, sinceramente qui a Ponsanto ci siamo seduti a un tavolino e ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto le cose, prima di tutto abbiamo fatto le cose che potevamo fare, perché io ho l'impressione che questo Covid abbia intaccato non tutti, cioè all'inizio sembrava che fosse una cosa che tutti invece da quanto ho visto, da quanto sento, è una cosa che vale per qualcuno e per qualcun altro no, qui vale, però ci sono delle regole, ci sono dei budget, li abbiamo rispettati, ripeto, e siamo convinti anche per quelli che sono i budget di aver costruito una squadra che possa ben figurare in questo campionato, abbiamo tanti giovani, cercheremo di farli crescere e poi vediamo che tipo di crescita faranno questi giovani, quindi se cresceranno velocemente magari ci torneranno qualche soddisfazione in più, se no li aspettiamo, ma questo è un ambiente tranquillo e quindi faremo le cose con la massima tranquillità. Con queste ultime giornate hai perso due puntelli, Bison e Teodoro, centrocampo e attacco sono in forma, sono ideali spunti per questo puntano offensivo? Ne abbiamo pensi di più, se ti dovessi raccontare tutto quanto, però non è quello il problema. Sì, erano due ragazzi con i quali abbiamo tentato di avere un approccio, però ripeto, fa parte del momento, ci sono state delle scelte diverse, però non ci siamo strappati i capelli, ne abbiamo fatte delle altre, ripeto, il gruppo che ci stiamo allenando, io sono molto contento, mi avevano parlato di ragazzi giovani qui del settore giovane del Ponzano che erano validi e sto scoprendo giorno per giorno che in effetti ci sono dei ragazzi che hanno delle qualità e sono curioso anch'io a vedere nelle partite chiaramente ufficiali quanto cresceranno questi ragazzi e quanto riusciranno a darci delle soddisfazioni. Io credo che più di qualcuno, ci sono due o tre, che possono fare molto bene e potrebbero già approvare anche, tra virgolette, a una categoria diversa. Il campionato inizierà 15 giorni in anticipo, cambiano le tue strategie di lavoro? Sì, qualcosa cambierà, chiaro che se ci dicono che iniziamo al 27 e poi iniziamo al 13, chiaro che cambia, però io non sono abituato a lamentarmi, quindi troviamo le soluzioni per risolvere questo problema e iniziamo il 13. Iniziamo il 13 con Maurizio De Pierini, è uscita una chiacchierata come avete sentito estremamente interessante, condita anche da qualche stilettata, insomma il collega Flavio Cipriani ha anche cercato la provocazione che giustamente Maurizio De Pieri ha lasciato andare, perché insomma il passato è passato. Bene, abbiamo concluso anche oggi la nostra puntata di Restart, 26 settembre 2020, Streaming Sport, venetoglobe.com, tutto questo per avere il meglio dello sport, Mirko Villanova in studio con Flavio Cipriani e poi in cabina di regia Vincenzo Russo, coadiuvato da Luigi Gigi Selvestrelle. È tutto, buona giornata!